qui convenuti in il templo di santo jacobo in pontida giuriamo sui sacri evangeli che non faremo pace tregua o trattato con federico imperatore né col di lui figliolo né con la di lui moglie né con altri della sua famiglia né per conto suo né per parte altrui e di buona fede con tutti i mezzi che saranno in nostro potere ci adoperremo ad impedire che nessun esercito piccolo o grosso di lamagno di qualunque altra contrada dell'impero che trovisi al di là dei monti entri in italia e ove si presenta un esercito noi faremo guerra viva all'imperatore e a tutti i suoi partigiani in sino a ciò che il suddetto esercito esca d'italia e ciò faremo pure giurare ai nostri figli appena compiranno i 14 anni in nomine domini nostri Gesù Christi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.